Albaverde capolista in serie B2 femminile di volley. Dopo due giornate di campionato, le Nissene sono al primo posto della graduatoria del Girone I, in condominio con Fidelis Torretta e Gioiosa Ionica a sei punti, davanti a Crotone, Cuscatania e altre squadre allestite per il successo finale. Dopo la vittoria sulla Region Reggio Calabria, l'Albaverde Caltanissetta ha superato a pieni voti e anche la trasferta di Ragalna contro l'Alus con un perentorio 0-3. Successione dei set, 12-25, 12-25 e 19-25, tra le migliori in campo Alessia Angiletta, Nicole Ferrarini e Valeria Lamattina. I risultati della seconda giornata, Zafferana, Crotone 3-2, Ardens Comiso, Gioiosa Ionica 0-3, Ericina, Cuscatania 3-0, Planet, Fidelis e Torretta 1-3, Saracena, Stefanese 3-0, Alus, Albaverde e Caltanissetta 0-3, Volley Region, Vallei 3-2. La classifica, Albaverde, Caltanissetta, Fidelis, Torretta e Gioiosa Ionica a sei punti, Zafferana e Crotone 4-0, Saracena, Ericina, Cuscatania e Stefanese 3-0, Region, Reggio Calabria e Vallei 2-0, Planet, Alus e Ardens Comiso 0.